Pescara è il primo comune italiano ad attivare e finanziare l'adesione contestualmente di tutte le scuole della città di ogni ordine grado a EcoSchools, il più grande programma globale di scuole sostenibili promosso dalla danese Foundation Fund Environmental in Education con l'obiettivo di sviluppare l'apprendimento di modelli di comportamento attenti alla salvaguardia dell'ambiente, partendo dalle scuole per creare nuove generazioni di cittadini consapevoli alla tematica ambientale. L'adesione di tutte le scuole di Pescara ad EcoSchools nasce grazie alla collaborazione con la provincia di Pescara e l'ufficio scolastico provinciale attraverso la sottoscrizione del protocollo Rete EcoSchools del comune di Pescara coinvolge 11.662 alunni degli istituti comprensivi di Pescara e 5.300 alunni del liceo classico d'Annunzio, liceo scientifico Galilei, liceo scientifico Da Vinci, liceo Major e Ipsar De Cecco. È un programma che inizia nella scuola ma si estende e coinvolge l'intera comunità che aiuta a crescere anche su certi temi culturalmente il cambiamento anche di comportamenti e approccio alle tematiche della sostenibilità. Pescara ha avviato quella che è un progetto di rete di EcoSchools, quindi facendo sì che tutte le scuole del territorio facciano parte, dicevo, di questo programma lavorando in rete tra di loro. Quindi è qualcosa sicuramente di avanti, di innovativo che nel giro di anni, a media lungo termine, porterà a una crescita complessiva culturale di formazione di una futura cittadinanza su certi temi. E questo sicuramente in un percorso di sostenibilità che la città si è data ha un impatto sicuramente positivo e di forte cambiamento.